In edicola c'è un quattro ruoti diverso dal solito. Quando abbiamo chiuso il numero di ottobre in redazione che in copertina ha la Honda HR-V, ancora non si sapeva che negli Stati Uniti stava per nascere lo scandalo che avrebbe poi travolto la Volkswagen. Di che cosa si tratti ormai lo sanno tutti. Accusata dall'EPA, l'agenzia governativa americana che si occupa dell'ambiente, di aver utilizzato un defeat device su alcuni motori turbodiesel, ovvero un software in grado di alterare in sede di omologazione il valore allo scarico degli NOx, la casa tedesca ha ammesso le proprie colpe. Da lì si è scatenato uno tsunami di dimensioni planetari. Dunque abbiamo deciso di rinviare la distribuzione nell'edicole del giornale e realizzare uno speciale interamente dedicato alla vicenda Volkswagen. Quattro ruoti in edicola dunque ha una forma inusuale. Lo trovate cellofanato con questo strillo all'interno di edizione straordinaria sul caso Volkswagen. Aprendolo troverete una sovraccoperta, appunto questa. Sotto la sovraccoperta, accanto al giornale, l'edizione straordinaria, 16 pagine in formato tabloid. Chi scaricherà la versione digitale troverà l'inserto speciale di 16 pagine in coda al giornale. Lo abbiamo realizzato secondo il nostro stile. All'interno dunque troverete una minuziosa ricostruzione della storia, una disamina tecnica dei motori incriminati, una spiegazione di come e perché è avvenuta la manipolazione dei test, nonché le prospettive di carattere finanziario e macroeconomico che l'affare comporterà. E ovviamente l'ennesima sottolineatura di come gli attuali cicchi di omologazione lasciano troppo spazio a scorciatoie e furbate varie. Molti forse avrebbero desiderato che Quattro Ruote si accodasse alla foga giustizialista, giustificata più da un malinteso senso di vendetta contro la Volkswagen in particolare e i tedeschi in generale. Ma noi siamo diversi. In questa settimana, oltre a dare un'informazione quotidiana straordinariamente completa sul web, abbiamo utilizzato le competenze della redazione dei giornalisti per realizzare questo numero speciale che chiarisse in modo obiettivo le accuse, le ammissioni di colpa e le conseguenze. Abbiamo fatto, cioè, quello che ci si aspetta da un giornale serio, analizzare i fatti e offrire una visione priva di pregiudizi a un pubblico travolto da mille informazioni, spesso contraddittorie, incomplete o addirittura false. Io ritengo che fare informazione seria, senza inseguire i facili sensazionalismi, sia la missione di Quattro Ruote, soprattutto quando è in gioco la fiducia dei consumatori, soprattutto quando si parla di temi importanti e fondamentali come l'ambiente. Sono argomenti a cui il nostro giornale ha dato straordinaria importanza, costruendo la propria credibilità in 60 anni di storia. Quindi, lo ribadisco per l'ennesima volta, Quattro Ruote è l'unico giornale al mondo ad aver investito decine di milioni di euro nella costruzione di un impianto di prova indipendente. Questo ci ha consentito di avere una voce libera ed autorevole, una voce che facciamo sentire con forza anche in questo momento di confusione e smarimento nel pubblico.